a pascucci ha fatto i capelli bianchi avessi vinto una orta ma chi te conosce ciao bandia visto l'avvocato di marcia guarda che io faccio un libratore mica faccio uscire grazie molto gentile ciao mazzarita ma si nasce accadde vedessi ma una volta un cavallo buono ma guarda un po qua due milioni di piatta con due anni da ritrati ma che si è messo in testa che io lavoro per la stai tranquillo che c'ho un affare per le mani che se mi viene bene guarda ti sistemo la faccenda nel giro di ventiquattro ore avvocato qua con le ventiquattro ore se siamo fatti vecchi avvocato a mi piacere vanno a fare la telefonata va blecchia dammi le fatture con tutto quello che ho da fare di presenti con le fatture ma dico è possibile che due genti ma come noi debbano perdersi per una video questione di soldi qua ma allora lei da sto vecchio non ce l'ho proprio sentì avvocato se lei non mi paga gli arretrati o al cavallo gli sospendo la viata anzi mo io lo dico da ieri sera quello sta a dieta la saluto avvocato quanto magna sto cavallo soldatino mio russe la mia rovina t'abbuffi t'abbuffi non vinci mai guarda qua due milioni e passa di viata ma che c'hai un sito sta al posto della panza guarda che ti metto in castigo pane acqua con i carcerati sai avvocato si che c'è avvocato da marchi signori spettici avvocato mi scusi se la importuno ma mi rivolga a lei nome della solidarietà che ci lega da quale solidarietà la solidarietà la solidarietà di guina il mondo di cavalli avvocato se non si aiutiamo fra di noi guarda pomata oggi è una brutta giornata avvocato solo lei che giocatore mi può capire c'è un cavallo buono pagnato ma di una mano mi bastano solo centomila e poi lei mi conosce io apposta perché te conosco avvocato gli e basta questo per garanzia e che sarebbe è il libretto di pensione di minonna minonna è una signora non ti vergogni e manco per niente io poi vinco e gli faccio un bel regaletto a nonna ecco ti piuttosto vorrei sapere chi è sto cavallo sicuro can 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 ma quello è paralitico no non diretti avvocato e subito lo pare paralitico ma quello è un cavallo di troia avvocato allora niente avvocato va bene questa 12 grammi senza contare la catenina apomato è fasulla sì ma è benedetta eh vabbè eh